Il treno regionale 26136 di Trenitalia, proveniente da Salerno, è diretto a Caserta, delle ore 5.32, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cancello, Maddaloni Inferiore. Il treno regionale 26133 di Trenitalia, proveniente da Caserta, è diretto a Salerno, delle ore 6.41, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Palma San Gennaro, Sarno. Il treno regionale 22225, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Sapri, delle ore 8.26, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Monte Corvino, Omignano Salento, Centola, Torre Orsaia. Il treno regionale 26147, di Trenitalia, proveniente da Caserta, è diretto a Battipaglia, delle ore 14.23, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 26156, di Trenitalia, proveniente da Battipaglia, è diretto a Caserta, delle ore 17.14, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cancello, Maddaloni Inferiore. Il treno regionale 22226, di Trenitalia, proveniente da Sapri, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 20.03, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cancello, Maddaloni Inferiore, Caserta, a Versa.